E' una giornata importante perché spesso si pensa che il problema sia stato superato, credo ci sia una percezione sbagliata su quello che è il fenomeno dell'HIV, non è vero che non ci sono più, potremmo dire, contagi, anzi devo dire sono aumentati in virtù anche del fatto che si pensa che il problema dell'AIDS sia stato messo da parte con il problema dei farmaci, cioè il fatto che la vita si sia allungata, che il fenomeno stesso non ha più una visibilità mediatica, in realtà invece non è così, è un problema che va attenzionato perché è un problema che sta crescendo nuovamente. Adesso vengono colpiti un po' le fasce più impensabili, cioè frequentatori magari di donne che si prostituiscono, di rapporti non protetti, di professionisti, ma anche il problema più allarmante è anche di giovani, perché dico giovani? Perché non c'è più un'adeguata informazione, non c'è più un'adeguata formazione anche al fenomeno stesso e quindi si pensa che il rapporto stesso non protetto non produca più nessun problema, in realtà non è così. Quindi dovremmo riaccendere il riflettore a livello nazionale, ma anche a livello mondiale ovviamente, per far sì che i governi possano rilanciare una campagna informativa, una campagna sulla prevenzione e perché no, ritornare a lavorare nella scuola. Io oggi devo dire grazie all'istituto del liceo classico di Bagheria Scaduto, agli insegnanti che hanno partecipato, ad aderito al CERT locale con la dottoressa Rumeo e ad altre associazioni come Cassa Femiglia Rosetta che sono qui con noi, proprio per far sì che i ragazzi possano essere informati su quello che il fenomeno realmente è oggi nel 2018. Infatti io penso sempre che lo slogan sia molto azzeccato, pensi che non ti riguardi, io credo che ci riguardi tutti. I giovani sono i diretti interessati a questo fenomeno dell'AIDS che va crescendo, naturalmente pensavamo che fosse un fenomeno che ormai con le nuove terapie antiretrovirali, con le terapie combinate fosse in diminuzione. Invece purtroppo siamo ancora nel vivo della questione. I giovani devono comprendere che sono sicuramente i primi ad approcciarsi alle prime relazioni sentimentali, alle conoscenze del mondo, che proteggersi e che conoscere il fenomeno sicuramente riduce notevolmente il rischio di un'infezione d'HIV. Il servizio oltre a disporre di test che si possono effettuare con il prelievo ematico, un prelievo ematico semplicissimo come un esame di routine che ha un'attendibilità quasi del 100%, naturalmente in un periodo che va dai 90 giorni dal rapporto magari non protetto e quindi una certezza di verificare se l'infezione c'è stata o no. Inoltre svolge un ruolo di supporto psicologico per chi naturalmente può avere una diagnosi anche sospetta di HIV e un ruolo di contenimento e di cura naturalmente successivo al risultato positivo del test. Il dottor Mario Rizzo, educatore della casa famiglia Rosetta, oggi ha portato il proprio contributo parlandoci di una bellissima esperienza della propria struttura in Tanzania. Sì, i destinatari sono bambini, già questo apre un po' il cuore, sono orfani di persone malati di AIDS, a loro volta malati e coadiuvati anche dal punto di vista delle loro disabilità perché molti di loro hanno anche dei problemi neuropsicomotori. Le strutture attualmente presenti sono tre fisicamente, una casa alloggio proprio per i bambini, una scuola nella quale i bambini non solo imparano le classiche cose che si imparano a scuola, ma imparano anche un'educazione alla vita che li trasformerà per quanto possibile in piccole monadi di prevenzione per il loro paese. La Tanzania ha una realtà che è molto diversa rispetto alla realtà italiana, come tante nazionalità, tante nazioni africane. Si parla di cifre assolutamente improponibili rispetto all'Italia. e oltre a queste due strutture poi c'è infatti un centro di riabilitazione neuropsicomotorico. C'è un ospedale al quale ci appoggiamo, è una bella esperienza, è quella intrapresa dai medici dell'ospedale, del reparto di infettivologia, malattie infettive, che radunano i bambini una volta al mese, fanno un bel gruppo insieme a loro. I bambini sentono molto quel momento, tanto che preparano canti, preparano giochi. È un momento chiaramente di educazione sanitaria, di cura, ma è anche un momento di insieme per loro, è un momento che viene vissuto gioiosamente. E questo è il messaggio che resta. Il sorriso di questi bambini, che nonostante quello che la vita gli ha riservato, hanno sempre un sorriso e sempre un canto, perché cantano continuamente. Grazie.